Tra gli obiettivi elencati anche in occasione degli ultimi stati generali di midterm, il sindaco Ricci ha annunciato l'esigenza di mantenere la città di Pesaro ancora più pulita. Tanta manutenzione, tante segnalazioni, per questo noi oggi di Rossini TV ci troviamo qui in Viale Trento, nel campetto di Viale Trento, a causa di numerose segnalazioni arrivate da voi telespettatori. Il campetto da basket, infatti, come potete notare dalle immagini, presenta in alcuni punti una situazione di degrado, dove si intravedono numerose cartacce, bivacchi e tanta plastica. Tra le diverse problematiche denunciate, buona parte di queste nascono dal mancato rispetto di alcuni ragazzi nei confronti delle regole da seguire. Di fronte all'ingresso dell'impianto sportivo, infatti, sono presenti i classici bidoni per la raccolta differenziata fornita da marche multiservizi, non perdonando dunque il nocivo gesto compiuto, che, se ripetuto, può dar vita ad uno scenario come questo. Ricci, a inizio anno si è posto l'obiettivo di una città più pulita e per raggiungere questo risultato sarà necessario maggior buonsenso da parte dei cittadini e più rispetto per l'ambiente in cui si vive. Una situazione che può migliorare anche grazie al vostro intervento di voi cittadini attraverso la nuova applicazione del rifiutologo. Marche Multiservizi ha infatti creato un'app che permette ai cittadini di poter segnalare attraverso una foto il rifiuto ritrovato. Una volta scattata, la foto viene georeferenziata e di conseguenza Marche Multiservizi può intervenire sul posto smaltendo il rifiuto trovato. Vi invito comunque nuovamente a inviarci le vostre segnalazioni anche al numero di redazione di Rossini TV. Noi saremmo pronti ad accendere le nostre telecamere per cercare di risolvere problematiche come questa. Grazie a tutti.